Gentili telespettatori, buona giornata. Chi è Arianna Meloni, la potente sorella del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni? La donna è finita al centro di diverse polemiche perché è stata nominata responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. Nel partito da quando è nato ha sempre fatto questo lavoro, me l'ha fatto dietro le quinte, ma adesso poi è stato ufficializzato questo suo ruolo. Non era un volto noto della politica, anche se fin da giovane ha militato in diversi partiti politici. Arianna è la sorella di Giorgia Meloni, attualmente Presidente del Consiglio. Suo marito è il Ministro dell'Agricoltura Lollo Brigida, che è quindi il cognato di Giorgia Meloni. Su Arianna Meloni si è accesa poi la polemica perché c'era il caso Vannacci che distraeva i cittadini secondo la sinistra mentre avveniva la nomina della sorella, quindi c'era tutto un giochino della sinistra che diceva che avevano distratto con il libro di Vannacci per nominare la sorella, ma ovviamente era tutta una falsità. Arianna Meloni è nata a Roma il 26 di maggio del 1975. Non ha cominciato subito la carriera politica, ma Arianna ha raccontato in più di un'occasione di aver sempre supportato la sorella e di averla accompagnata nel percorso fino ad oggi, a Palazzo Chigi, dopo la vittoria elettorale del 2022. Arianna si descrive come la sorella ribelle della famiglia. Abbandona gli studi per andare a lavorare e poi si pente in seguito. Del suo lavoro aveva sempre difeso l'autonomia di non esserci arrivata grazie a parentele o eccetera eccetera. È la più longeva dei precari del Lazio. Poi ha sposato Francesco Lollobrigida, nipote di Gina Lollobrigida. Adesso è lui l'attuale ministro dell'agricoltura di Fratelli d'Italia. Lui è deputato dal 2018. I due si sono messi insieme dai primi del 2000 e dalla loro relazione sono nate le figlie Vittoria e Rachele. Sulla educazione delle figlie lei dice che con loro cerco il confronto, provo sempre a spiegare come guardare le cose con prospettive differenti e senza lasciarsi influenzare pregiudizialmente dai mass media e dai social. Lei è stata poi chiamata alla guida della segreteria del partito di Fratelli d'Italia che non ha niente a che vedere con la segreteria del PD. Si chiama nello stesso modo ma il ruolo di Arianna Meloni non è capo del partito ma è capo della segreteria, cioè dell'amministrazione del partito che non ha niente a che vedere con essere capo politico. Il capo politico è comunque sua sorella Giorgia Meloni. Il responsabile poi dell'organizzazione del partito è Giovanni Donzelli. Ora sta pensando alla candidatura per le europee ma probabilmente se si candiderà le europee per avere due nomi col cognome Meloni sulle liste, Giorgia Meloni e Ranna Meloni, quel cognome che potrebbe portare tantissimi voti. Si stima che le due sorelle sulle schede elettorali porterebbero un 4% in più al partito, il Fratelli d'Italia potrebbe arrivare al 32-33-34% e questo 4% arriverebbe un po' dall'astensione ma principalmente sarebbero elettori della Lega e di Forza Italia che le loro percentuali diminuirebbero sempre di più. Insomma questa era una piccola descrizione di Arianna Meloni che dice se solo sapessero l'ansia che ho provato, i silenzi e le angosce spesso insieme per capire e riflettere, guardarsi intorno, così sono le sue parole tratte da alcune interviste. Insomma diciamo che adesso vedremo in queste elezioni europee se davvero le due sorelle si candideranno, Arianna Meloni rimane comunque ovviamente il capo dei fedelissimi di Giorgia Meloni perché più fedele di una sorella non esiste, quindi lei è il capo della cerchia ristretta intorno a Giorgia Meloni, una persona ovviamente di cui si può fidare ciecamente e attenzione che non è sempre così perché lo sappiamo, almeno da quello che vediamo intorno, sorelle, fratelli, diciamo che sono più i casi dove si vedono all'interno delle famiglie delle litigate, delle separazioni che delle unioni, quindi io per mia esperienza personale guardandomi intorno vedo più fratelli e sorelle che sono in litigio separati che persone unite, è difficile trovare fratelli, sorelle veramente uniti, ci sono ovviamente, ma la maggioranza sono quelli che non si parlano più da anni, scontri per i soldi, per l'eredità, invidie, competizioni, quindi questo fa parte di uno di quei casi dove la parentela è un qualcosa di positivo e non qualcosa di negativo, non so se vi ricordate quel film degli anni 80 che a me piace moltissimo, Parenti Serpenti, dove fa una fotografia proprio del finale degli anni 80, di come ci si vestiva e qui racconta la storia di figli, sorelle, cognati che si ritrovano tutti insieme a Natale dove poi arrivano litigate, sotterfugi, tradimenti, eredità, giochi di potere interno alla famiglia, ecco, Parenti Serpenti, questo si chiama il film, oppure si dice più i parenti sono stretti più fanno male come gli stivali quando sono stretti, quindi per fortuna loro hanno un rapporto che è buono e ottimo e questo serve anche in politica. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti.